Buongiorno da Stefania Bonomi e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi è venerdì 21 luglio. Come sempre, come tutti i giorni, andiamo a festeggiare San Lorenzo perché oggi è proprio l'onomastico di San Lorenzo. San Lorenzo da Brindisi era un sacerdote. Entra nei minori cappuccini nel 1575 a 16 anni e a 30 è già diventato molto importante perché l'ordine gli affida tantissime responsabilità, come pure più avanti papi e principi. San Lorenzo da Brindisi, sacerdote, muore a Lisbona nel 1619 mentre difende i napoletani dalle malversazioni del duca di Ossuna. Leone XIII lo canonizza nel 1881 e quindi facciamo appunto gli auguri a tutti i Lorenzo e tutte le Lorenze. E come tutte le mattine andiamo a vedere le previsioni del tempo. Tempo stabile e soleggiato con caldo intenso nelle ore pomeridiane. Massime fino a 35-38 gradi in pianura. I venti sono in rinforzo. Abbiamo un sabato tendenzialmente soleggiato con qualche nuvoletta sparsa. E' una domenica di pieno sole ancora con temperature altissime. Il mare è poco mosso. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonta alle 20.41. E come tutte le mattine andiamo a collegarci con i bagni marino 1958 di Lumana e più precisamente con Ivano Biasiolo, Hospitality Director. Eccoci Ivano! Buongiorno a tutti! Allora, per la prima volta in una settimana vedo il cielo che non è proprio completamente libero dalle nuvole, che è anche un po' meglio sinceramente. Per adesso sì, poi vedremo durante la giornata. Chissà che magari qualche nuvoletta passi e tenga un po' di ombra, che ne abbiamo abbastanza bisogno in questi giorni. Allora Ivano, abbiamo parlato in questi giorni di tanti argomenti. Stamattina affrontiamo invece, visto che andiamo verso il weekend, un argomento relativo un po' al divertimento, ossia non abbiamo mai parlato di quelle che sono le iniziative che svolgete presso i vostri bagni, ossia, intendo dire, corsi piuttosto che altre cose di questo genere. Allora, noi come focus abbiamo sempre il far star bene il cliente, quindi da noi non ci sono acqua gym, palestre all'esterno, non so come dire. Insomma, noi abbiamo come focus appunto il fatto che il cliente deve stare bene, deve stare qua da noi, deve rilassarsi, non deve pensare a niente, tranne che a stare al sole e a fare il bagno. Quindi non date momenti, diciamo, di divertimento. Animazione, diciamo. Sì, chiamiamo l'animazione, adesso mangiamo un soft, animazione un po' soft, magari anche per i bambini per esempio. Abbiamo deciso da quest'anno di privilegiare una clientela che ha bisogno proprio di rilassarsi e di stare tranquilla. Quindi per esempio noi abbiamo un accompagnamento musicale durante la giornata che è totalmente chill out, totalmente soft. Ah, che meraviglia. Sì, sì, poi è il mercoledì, abbiamo un fisioterapista che viene qui dalle 2 alle 6 e per chi vuole si può fare benissimo massaggiare per esempio. Ah, quindi avete una specie di punto benessere. Esattamente, che è proprio l'inizio di quello che vorremmo diventare noi, proprio un punto di riferimento per lo stare bene qua sulla riviera di Numana. Interessante, che tipo di massaggi sono proposti? Fa sia fisioterapia che chinesi-terapia, è un chinesiologo, quindi fa massaggi decontratturanti, massaggi rilassanti, anche il massaggio californiano. Quindi vi invito a venire qui e mettervi sotto le mani di Marco. È assolutamente interessante questa cosa, relativamente poi al fatto che anche altri fanno invece delle cose diverse, ma è una cosa che può essere prenotata anche per dire da clienti esterni allo stabilimento? Certo, certo che sì. Basta solo telefonarci, lui riceve il mercoledì e qui ha uno spazio a lui dedicato, quindi basta solo che ci dà le telefoniate e prendiate appuntamento. Benissimo, perfetto Ivano, questa è una grande indicazione per chi volesse farsi una bella gita anche da Fano a Numana, che sono dei posti come dico bellissimi, quella costa è meravigliosa, e perché no a un certo punto rilassarsi con un bel massaggio. Totalmente. Va bene Ivano, noi ci vediamo ancora naturalmente domani, ci salutiamo domani come ultimo appuntamento, io naturalmente saluto lei ma saluto anche tutti i suoi ospiti del suo stabilimento e auguro a tutti naturalmente una buona giornata. Grazie anche a te Stefania e a tutto Fano TV. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata. E noi iniziamo invece la nostra rassegna stampa e diamo subito una prima, mettiamo la lente di ingrandimento sul Corriere Adriatico, vediamo subito cosa c'è in prima pagina. Allora, il Corriere Adriatico in prima pagina apre con Ricci, San Domenico gara 3, rispettati i tempi il Comune dimostra di farcela nonostante aumenti e carenza di personale, avanti con la riqualificazione del complesso legata ai fondi PNRR, cantiere da chiudere in 570 giorni. E poi ancora la fotonotizia, gremito il campo di calcio per l'addio alla sedicenne in migliaia a Loreto per Sofia. Le brevi di cronaca, Urbino discarica, frasi shock, Gambini, giusta la scelta fatta dal CDA. Fano, e andremo subito a vedere la notizia, Basilica di Vitruvi, un altro locale spunta dagli scavi. E a Fossombrone, camion tampona sull'autostrada, muore nell'auto. Ed infine, in fondo pagina svastica, vorremmo incontrare il ragazzino, il simbolo nazista disegnato davanti ai familiari, il presidente della comunità ebraica, si dichiara siamo addolorati. E come ho detto, andiamo subito e immediatamente alle pagine di Fano, entriamo nel vivo di questa scoperta. Scavi in centro, spunta un altro locale, ma l'ipotesi basilica ancora non è confermata. Se si trattasse dell'opera di Vitruvio, sarebbe un vano di servizio, girato anche un video con un drone. Gli archeologi, incaricati dalla sopraintendenza delle Marche, stanno estendendo le ricerche per individuare la pertinenza dei locali venuti alla luce. La presenza di marmi pregiati ha sollevato l'ipotesi dell'individuazione della Basilica di Vitruvio, ma tutto ancora deve essere confermato. Rispetto ai primi due locali di ridotte dimensioni che sono stati scoperti all'inizio delle indagini, è stato individuato un terzo ancora più piccolo e tuttavia gli scavi alla ricerca della Basilica di Vitruvio procedono in collaborazione tra sopraintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio delle Marche e il luco di Ancona dei Carabinieri. Lo scoperto in cui vengono effettuate le indagini, anche se non molto ampio, potrebbero essere sufficienti per giungere a conclusioni realistiche. È la speranza degli archeologi e di tutti i fanesi desiderosi di essere continuamente aggiornati sull'esito delle ricerche. E questo è il primo articolo in cui si apre in prima pagina. Poi ancora, spettacoli alla Corte, omaggio alla Luna, il ritorno con l'evento di Clio, Nigraz e Ari e Mara per impronte femminili. Gli spettacoli tornano alla Corte Malatestiana, un luogo perfetto per i concerti e il prolungamento all'aperto del teatro. Così ha detto l'assessore comunale Cora Fattori presentando la performance teatrale Il mio nome nella luna. Stasera, a partire dalle 21.15, la voce narrante dell'attrice Clio Gaudenzi sarà accompagnata dai disegni in diretta del fumettista-illustratore Simone Nigraz Pontieri e dalla musica elettronica di Vincenzo Arimar Pedata. Ed ancora restiamo su Fano, bosco urbano con 5.000 piante. Si rivitalizza il parco polverari. In vent'anni produrrà 510 tonnellate di ossigeno assorbendone 698 di CO2. Si calcola che il nuovo bosco urbano consentirà di assorbire fino a 698 tonnellate di anidride carbonica in vent'anni fino a 509 chili di polveri sottili all'anno, restituendo all'ambiente fino a 510 tonnellate di ossigeno in 4 lustri. Questo è il seme di un bosco urbano che è stato piantato nell'area del parco Luciano Polverari, zona aeroportuale a Fano. Sono 5.000 giovanissime piante su un'area di 4 ettari e mezzo, al 70% alberi, il resto arbusti come negli ambienti naturali. Ed ancora Fano mostra sul futurismo, Guerri parla di D'Annunzio alle 21.15 al San Domenico con la Fondazione Carifano. Futurismo, arte povera, trasverguarda le uniche riconosciute a livello internazionale. Quest'anno la Fondazione Carifano, presso il suo sistema museale di Palazzo Bracci Pagane, propone la mostra sul futurismo, in particolare sul depro e futuristi nelle Marche, aperto fino al 1 di ottobre. Ci spostiamo in Val Metauro. Val Metauro, tanti ex alla corte di De Leo, presenti due alleati di Seri, Altagotel, c'erano anche Marchegiani e Pedini. Un incontro interlocutorio ed ancora iniziativa grave. Bartoli si deve dimettere. I tre gruppi consigliari di minoranza a Fossombrone chiedono le dimissioni di Marco Bartoli, presidente della Commissione Comunale e Speciale Sanità. Fratelli d'Italia ritiene dannosa l'iniziativa presa da Bartoli, che ha redatto e inviato un testo per emendare l'attuale Piano Sociosanitario 2023-2025, richiesta questa indirizzata al Consigliere regionale Nicola Baiocchi e Giulia Latini, rispettivamente presidente e segretaria della Quarta Commissione della Regione Marche. Riteniamo che questa iniziativa sia dannosa perché oltre a mirare il fronte comune che si era costruito per dialogare con l'ente regionale, limita inoltre le previsioni che con un dialogo costante siamo riusciti a far inserire in questo nuovo piano sanitario regionale. E passiamo in Valcesano. Eventi di massa costosissimi, ma è il deserto della cultura. L'artista Sorcinelli stronca la politica del comune. Reazioni contrastanti. Ed ancora, la tradizione anteprima della Polenta al Pescia, al via al programma della Sagra di San Costanzo, troverete tutti gli appuntamenti. Notizia di cronaca, importante, tamponamento, shock in autostrada. Piomba un camion muore nell'auto. Coinvolti quattro veicoli sulla A14 tra Ancona Nord e Monte Marciano. Giorgio Lupini era di Fossombrone. L'ennesimo drammatico incidente avvenuto ieri attorno alle 18 nel tratto tra Ancona Nord e Monte Marciano nella carreggiata verso Bologna. Tragico il bilancio, un morto e due feriti. Ha perso la vita Giorgio Lupini, 75enne di Chiaravalle, ma residente a Fossombrone. Grave la moglie Maria, 61enne, d'origine romena. La loro auto è stata tamponata violentemente da un tira e nella carambola sono state coinvolte altre due auto. Ferita lievemente una donna, il lesi, l'altro conducente e il camionista. Torniamo alla pagina principale. Vediamo anche cosa ci propone il Corriere Adriatico per quanto riguarda Pesaro. A Pesaro ritorniamo sulla famosa svastica che questo ragazzino di una famiglia, figlio di due genitori tedeschi, ha disegnato sulla sabbia con il simbolo SS e che chiaramente ha risvegliato polemiche e indignazione da parte di tutti i cittadini. Svastica vorremmo incontrare il ragazzino con la sua famiglia. Il presidente della comunità ebraica di Ancona ne ha addirittura parlato con il questore. Un episodio che ha spinto a intervenire Marco Ascoli Marchetti, presidente della comunità ebraica di Ancona. Certo, si trattava di un ragazzino di soli di 11 anni, ma in presenza dei genitori che non hanno fatto per riprenderlo. Probabilmente simili atteggiamenti sono maturati in famiglia. Ed ancora, restiamo sulle pagine di Pesaro. La Schlein ritorna a Pesaro questa volta da segretaria del PD. La Schlein ha confermato la presenza alla festa dell'unità stasera, modificando il programma. Andiamo a vedere invece il resto del Carlino. Resto del Carlino, prima pagina. Lo scandalo della torraccia. Profughi girano seminudi vicino ai nostri uffici. Ed ancora, centro autismo esplode la rabbia. Il dietro fronte della regione scatena le proteste. Le famiglie, quella struttura era vitale. Ora scendiamo in piazza. Fotonotizia, l'abbraccio dei 2000 campane feste per Sofia. Un'enorme folla a Loreto, dall'addio alla sedicenne. C'erano anche i bersaglieri. Fondo pagina, passiamo allo sport. Vis 6. Gli acquisti fanno a un passo dalla CWL. Nuovi ingressi, consorzio, ora più forte. Via Marco Polo, movì da molesta e lancio di bottiglie turisti in fuga. E una notizia che riguarda la nostra città di Fano. San Bartolomeo si sposta da Sassonia a Viale Adriatico. Entriamo nel vivo degli argomenti. Sofia, l'abbraccio e la festa. Messaggi sulla bara e palloncini 2000 a Loretti per l'addio. Stracolmo il campo sportivo della parrocchia. C'erano anche i bersaglieri e gli amici del fratello Dado con la divisa del Muraglia. L'enorme manifesto con tutte le sue foto. I fragili dimenticati, Pesaro, centro autismo sparito. La rabbia delle famiglie. Così ci avete ferito. Scenderemo in strada. Il dietro fronte su via Vattielli della regione che in ritardo ha scoperto l'incompatibilità con la centrale operativa. Tutto questo scatena le proteste. Palazzi, quella struttura per noi era un punto di riferimento vitale. Sempre relativo a quest'articolo si può arrivare fino a 2000 euro al mese a fronte di percorsi pubblici inesistenti. In provincia 300 casi e le terapie costano. Ed eccoci sulle pagine di Fano. San Bartolomeo fa le valigie. Traslocano 200 bancarelle. La fiera occuperà viale adriatico Portolido liberando parte di Sassonia. Accontentati gli albergatori è risolto il nodo del passaggio dei mezzi pesanti. La fiera occuperà viale adriatico. Si sposta quindi alla fiera di San Bartolomeo. Sarà liberata una parte di Sassonia e le bancarelle saranno dislocate in viale adriatico nella zona nora del Porto e del Lido. Si tratta di un trasloco abbastanza complicato in quanto interessa quasi 200 bancarelle che si snodano in un percorso di 2 km. Nessun operatore sarà penalizzato, ha assicurato l'assessore all'attività economica Etienne Lucarelli. Anzi, è esattamente il contrario. Vogliamo che tutti lavorino e che l'area del Porto sia sempre più valorizzata. Sempre a Fano. Di Leo in pista mi candido a sindaco. All'incontro, volti del centro-sinistra. C'erano anche l'ex vice-sindaco Marchegiani e Franchini, già nello staff di Seri, giovedì al Tag Hotel. È durata quasi tre ore la chiacchierata politica che il candidato sindaco Giuseppe De Leo ha organizzato giovedì pomeriggio al Tag Hotel con quella che definisce una qualificata rappresentanza della comunità. Mentre la Lega continua a puntare sulla candidatura a sindaco del consigliere regionale Luca Serfilippi e il resto del centro-destra sembra aspettare alla finestra De Leo ha deciso di accelerare la sua discesa in campo presentandosi ufficialmente come candidato sindaco di un progetto che ha chiamato una storia nuova. Ed ancora, Andrea Serafini, nuovo referente dei grillini fanesi, Andrea Serafini sarà il nuovo referente del gruppo territoriale di Fano di Movimento 5 Stelle. Passeggiata coi fiocchi al Bastione, una passeggiata coi fiocchi attorno al Bastione Sangallo, è stato completato con un investimento economico di 220 mila euro l'intervento di riqualificazione del percorso pedonale presentato mercoledì sera dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Una riqualificazione, ha detto Seri, non solo bella, ma che pone rimedio alle condizioni di poca sicurezza e di degrado del percorso pedonale. Ci spostiamo sempre sul resto del Carlino, Fano e Valcesano, discarica abusiva di ventilatori, multe salate per due famiglie. Circa 20 sacchi di indifferenziate dispositivi elettrici abbandonati vicino al casello di Marotta. I forestali hanno individuato i responsabili. 30 giorni per rimuoverli. Buonaccorsi, agire subito. Qui c'è la foto dove si vedono i rifiuti abbandonati a Marotta in via del Buzzo, vicino al casello autostradale. Una sorta di discarica a cielo aperto. Cosa veramente che, insomma, la raccolta differenziata è importante e non si può pensare di buttare mobili piuttosto che cose che non si usano più nei punti dove poi si pensa che qualcuno vada a raccoglierli. Queste sono veramente regole fondamentali di civiltà. Andiamo ad Urbino, Urbino, niente bus in piazza, perderci sono i cittadini. Ancora lamenterla per i mezzi soppressi dopo le 17.50. I lettori tornano a scriverci, ma Adria Bus rimane ferma nella sua posizione. L'analisi del mese di giugno, le temperature media superata solo di 0,58 gradi, un semestre piovoso come l'ultimo è stato solo nel 2010. Le anomalie del nostro meteo non finiranno mai di stupire. Nel 1855 il fisico Serpieri annotava che c'era un clima da brividi. Molti hanno definito freddo il giugno appena concluso, ma dati alla mano il mese è risultato nel compresso sopra la media del trentennio climatico di riferimento. Dal 1986 al 2015 il caldo africano del terzo millennio è arrivato in concomitanza con l'estate astronomica e probabilmente ci terrà ancora compagnia per molti giorni. Le notizie principali le abbiamo terminate, le abbiamo viste tutte, non abbiamo null'altro da approfondire. Io direi che anche oggi possiamo finire, concludere la nostra rassegna stampa con una notizia che riguarda gli spettacoli, diamo un'informazione, sempre per quanto riguarda la nostra città, il programma domani alla Rocca Malatestiana ci sarà il concerto del trombonista Petra Enella. Si parte con la trascinante Punk Fanking Band. Fano si prepara ad essere invasa dal Jets. Si inaugura domani la trentunesima edizione di Fano Jets by The Sea con il trascinante P-Fanking Band che fin dalle 11 del mattino spanderà la sua musica nelle vie del centro storico. Un irresistibile mix di suoni, ritmi e colori sarà anche al centro del concerto del trombonista Gianluca Petrella e della sua band Cosmic Renaissance per presentare il suo ultimo album che ancora una volta mescola le carte sonora e porta l'ascoltatore in luoghi inaspettati. Vi consiglio quindi veramente di seguire la manifestazione del Jets di Fano che è sempre stata una delle manifestazioni in assoluto più attese, più belle con dei musicisti di altissimo livello. Io con questa notizia naturalmente chiudo la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo domani mattina sempre alle 7 e naturalmente vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 20.30 e io vi invito a restare sul nostro canale per seguire i prossimi programmi. Grazie e buona giornata.